Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy. E benvenuti in un nuovo video disastroso. Video importante perché qua dobbiamo dire delle cose ma che abbiamo già detto tante volte e vi chiediamo di ascoltarci e di non votare la vostra bandiera. Non va bene, avete qualcosa di contrario, commentiamo, parliamone e tutto, ma ascoltate quello che vogliamo dire. Esatto. Non partite dalla vostra bandiera. E soprattutto, visto che è un discorso che appunto abbiamo già fatto e rifatto, ma in questo caso è spinto da un avvenimento ovviamente ultra recente. Più unico che raro. Commentate, fateci sapere la vostra e discutiamone appunto. Ma partiamo da cosa è successo. Cosa è successo? Inutile dirlo, inutile ricordarlo. Ormai l'avete saputo tutti e bombardato il web durante la giornata di ieri tra Facebook, Instagram, YouTube, tutto TikTok, eccetera, eccetera. Hanno parlato tutti degli aumenti di prezzo di PlayStation imposti da Sony sia sulla versione normale, con disco, sia sulla versione digitale per i mercati tutti di tutto il mondo, tranne USA. Ma prima, ragazzi, il video di oggi è sponsor by UKEEZ. UKEEZ, ormai sponsor storico del canale. Più di due anni. Sono più di due anni che ci supportano e che appunto hanno, diciamo, riempito anche le vostre case di Windows 10, tutte le varie chiavi che offrono sempre in sconto e che trovate sempre in testa le descrizioni. Ma non solo, perché potete prendere sia Office che Windows 11 o 10 con degli sconti. Basta mettere PD20 come codice una volta aggiunto nel carrello il prodotto che sia Office o Windows per avere il 25% di sconto sul prodotto. Quindi portare a caso una chiave PC a un prezzo veramente stracciato. Ad esempio, Windows 10, con ovviamente la possibilità di aggiornare gratuitamente a Windows 11 lo andate a pagare con il codice sconto PD20 poco più di 15 dollari. Che sono quanti? 14, 13 euro. O ancora l'Office nella versione quella ovviamente con il pacchetto a pagamento del 2019 che scontato con il nostro codice sconto arriva, arrivate a pagarlo circa 42 dollari. E non è il 365 che devi pagare mensilmente, ma ce l'avete finita lì. Quindi è molto comodo. La procedura, come detto, è molto semplice. Trovate i link fissati qua sotto in descrizione, aggiungete il carrello, mettete il codice sconto. Potete pagare con PayPal, tantissimi di voi l'hanno già fatto, ma lo usiamo tutti ormai da più di due anni. Per cui vi lasciamo tutto qua sotto in descrizione. Ma ora, torniamo a noi. E' venuto fuori un casino, che metà basta. Come se avessero aumentato di 5.000 euro il costo della console. Ora, lo so che l'impatto di 50 euro per molti non è poco e non è quello il punto. Con questo video vogliamo farvi capire quello che un po' c'è dietro a tutto questo. Esatto. Quello che ha portato a questo è il vero problema che ha Sony e il consumatore finale che non sono questi 50 euro. Ma proviamo a capire con i dati che abbiamo a disposizione come mai PS5 costerà 50 euro in più. Allora, durante appunto tutte le notizie e i commenti che abbiamo letto ieri tutti quanti hanno parlato chiaramente della dichiarazione ufficiale di Sony che è stata fatta girando attorno al problema economico globale odierno quindi l'aumento dell'inflazione, tutto quello che ne deriva dai costi maggiorati per l'azienda per la produzione che non sta più dietro effettivamente ai costi. E l'hanno dichiarato loro, sono effettivamente in difficoltà. Quindi quello sicuramente essendo una dichiarazione ufficiale è vero, ci sta, stanno cercando di mettere delle pezze. Ma allora perché sembra così grave questo avvenimento? Perché nel momento in cui un modello di business alla Sony PlayStation subisce un aumento non alla fonte di reddito ma alla motivazione che ti fa far reddito quindi alla console in sé, vi ricordo che PlayStation ha un modello di business alla macchinetta della Nespresso dove ti danno la macchinetta a poco e ti fanno comprare le cialde dopo a tanto e comunque guadagnano tanto sul dopo, sul durante. E quello il core business non è la console. La console è il mezzo che gli fa guadagnare tanto, non è il guadagno. Quindi è enorme la perplessità nel momento in cui tu aumenti la cifra di ingresso per la tua possibilità di guadagno. Uno dice, aspetta, è grave come cosa? A livello aziendale, non a livello di utente finale. È una decisione forte da parte dell'azienda. E anche qui, fermiamo subito sul nascere tutte le critiche che abbiamo anche visto in mille e mila commenti e veleno sputato su Sony che ha fatto per guadagnare più soldi dietro il bancone a ridere perché guadagniamo 50 euro in più da ogni console. No, perché non è così. Se si sono trovati in una situazione del genere, a dover fare una scelta del genere che per loro è un autogol incredibile, ragazzi. Non stanno godendo per nulla. È un autogol incredibile. A livello di immagine, vendere la console che dovrebbe appunto portarti a guadagnare ma non tramite la console, è un autogol incredibile. Non succede dai tempi in memory, forse dai tempi PS2. C'era una gestione un po' particolare, però innanzitutto il mercato gaming era all'inizio. Non c'era la concorrenza che c'è in questo momento, c'era, ma non quanto adesso. Il mercato non era così florido, non eri in una situazione due anni prima di totale vantaggio e predominio sul mercato gaming. Diciamo che la cosa è molto più complessa e molto particolata. Quindi perché, al di là del discorso di inflazione che è vero ed effettivamente è un problema anche per Sony, perché... Che i prezzi sono aumentati è vero, però sono aumentati anche i prezzi di Sony. Cioè i 10 euro a videogioco sono aumentati perché il costo di sviluppatori è aumentato, ci sono dei costi aumentati, quindi ovviamente già a fine 2020 Sony ha già introdotto 10 euro di più a ogni videogioco. Un gioco Sony su PlayStation costa 80 euro. Oltretutto hanno appena rivisto tutto il loro sistema di servizi. Aumentando i prezzi. Aumentando i prezzi medi, perché se l'ingresso nel avere internet sulla tua console Sony è rimasto più o meno quello, perché siamo sui 60 euro l'anno all'incirca, tutti gli altri livelli che sono stati introdotti vanno ad aumentare il prezzo del servizio. Quindi hanno avuto degli introidi a livello di servizi e lato guadagno, quindi videogiochi. Ed è lì che noi dovremmo paragonare Sony agli altri, non sulla console. Perché è lì dove Sony fa reddito, è lì dove Sony aumenta il prezzo. Ma non lo strumento per cui fa reddito. Perché se non esistono le PS5, Sony non guadagna mezzo centesimo di euro. Sony guadagna il momento in cui la PlayStation 5 è nella tua casa. Se non c'è, non guadagna un H. Ma da quel momento in avanti. Da quei momenti in avanti, se non c'è, non guadagna un H, a meno che tu non hai un PC e ti compri il suo esclusivo su Steam. Quello sì che guadagna. Però, dando comunque una bella fettozza a Steam, o magari no, perché dipende che accorreggiamo. Però diciamo che se non guadagni un euro, se non hai la console. Quindi il problema vero qual è? Perché di fatto, qual è stata la problematica che c'è stata nell'ultimo anno, diciamo, in questo anno, in questo 2022? E non ne parla nessuno, io non capisco. Parliamo del dato oggettivo. Ampera Analytica ha detto che quest'anno i giocatori, il mercato videoludico ha perso, perderà soldi. Non cifroni, però sarà in calo rispetto all'anno precedente. Non di tanto, del 2%, 1,5%, però non è quello il punto. Di solito cresce a doppia cifra o comunque di alte percentuali, quindi non crescere o diminuire è comunque una cosa da poco. Non è una cosa da poco, infatti. Ma oltretutto ci sono altri dati, le vendite di Sony PlayStation calate, il tempo, e questa è la più importante, il tempo di gioco su PlayStation è diminuito del 15%. Voi dite del 15%, su miliardi di ore. È una cifra folle. È una cifra folle. Voi dovete pensare che voi giocate 100 ore al giorno su milioni di utenti console. È ovvio che le cifre, se uno gioca 200 ore l'anno, o quelle gioche, voi sommate quanto giocate, vengono fuori centinaia di milioni di ore. Milioni di ore, se non miliardi di ore. Questo 15% significa non solo che tutti i giocatori attivi hanno giocato, che ne so, un'ora in meno al mese. Vuol dire che potenzialmente anche meno giocatori sono stati attivi in questo periodo, quindi ci sono stati di fatto meno giocatori in questo periodo. Quindi c'è un calo a livello di quello che, appunto, abbiamo spiegato prima, essere il reale guadagno di Sony. È questo il vero problema gigantesco di Sony? E cade in un anno in cui escono God of War, Gran Turismo e Horizon Zero Dawn 2. Cioè escono tre titoli di estrema punta per casa di Sony, dove quest'anno è forse l'unica che a livello videoludico ha una line-up interessante. Interessante. Questo ovviamente non è l'unico problema, però se perdi, lasciamo il dato del 15%, sulla parte dove guadagni effettivamente di più, in più tutto il discorso dell'inflazione, che come abbiamo detto è vero, è fattuale, quindi esiste, quindi è veramente un problema, questo ti porta a dover mettere la pezza da qualche parte. Oltretutto l'inflazione adesso è aumentata e si ragiona in media, quindi tu puoi avere un aumento di prezzi nel tuo settore superiore a quello che c'è quest'anno, perché l'inflazione è una media di tutto. Poi i settori possono aumentare di prezzo anche di più. Il caso dell'elettronica, l'elettronica del 2020 ha avuto un'inflazione superiore a quella di adesso. Quest'anno qua per l'elettronica è un anno più positivo a livello di costi che rispetto agli altri anni, perché ha avuto un calo della domanda importantissimo. Quindi è normale che c'è un'inflazione separata, voi dovete dire è aumento di prezzi del 10%, 10% su a tutto. No, esatto. Non funziona così, quella è la media tra tutto. È la media tra tutto, non funziona così. Quindi una cosa può diminuire, una cosa aumenta, e ovvio che questi aumenti qua sono trainati dal disastro energetico mondiale che sta succedendo, dalle minchiate che abbiamo fatto a non fare nucleare, ma non entriamo in politica. No, è stato senso non riusciamo più e quello è il problema. Quindi appunto, dato che questo è il problema, dov'è che Sony sta effettivamente al sicuro? A livello di quello che la gente vuole? Quello che effettivamente sa che ha ancora forte come domanda? Cos'è che non siete ancora riusciti tutti a recuperare? PS5. PS5 ha sia avuto degli aumenti, però d'altro canto sono sempre stati mascherati di decine e centinaia di ore in più, fatte in lockdown e quindi da e giù a pagare e spendere. Ma adesso che Activision Blizzard con Warzone fa il 70% di ricavi in meno, PS5 aumenta i prezzi. Perché PS5 guadagna molto di più da questa tipologia di giochi. È dal 2019-2020 che non esce un fenomeno videoludico di massa ed è quello che traina le vendite su certe tipologie. Il PC di un Fortnite non gliene frega niente. Non parlate di Elden Ring. Di Elden Ring fa 12... Non è un fenomeno di massa. Non è un fenomeno di massa. 16 milioni di copie non è un fenomeno di massa. Un fenomeno di massa è Fortnite o Riot con League of Legends che fa dopo 10 anni 100 milioni di giocatori attivi al mese. Quello è un fenomeno di massa. Il punto è che la maggior parte dei giochi, dei soldi vengono portati perché il 30% su ogni transazione un po' l'abbiamo scoperto quando è venuto fuori anche il caso Apple con 3PG Store, tutte le percentuali di transazione del 30%. Cioè è ovvio che se tu hai un gioco come su PC, ad esempio su Steam, come cavolo si chiama quello lì, Lost Ark, che ha fatto quant'è? 100 milioni di giocatori, fa un botto di milioni di giocatori mensili, ne fa un botto giornalieri. E' ovvio che quei giochi lì ti mancano, ti fanno fare soldi. Manca il fenomeno mondiale che ti porta una vagonata di soldi, di gioco, di skin, di pagamenti. I giochi single player non trainano, sono specchietti per le lodole, per farti comprare la console, per fare marketing, per poi farti guadagnare utilizzando lo store, comprando altri giochi, comprando l'online, compro il servizio e compro la skin. Tutto questo insieme fa il ricavo di PS5. Crolla il tempo giocato, crolla nei guadagni Sony, non riesce più a star dietro a quel prezzo di 500 euro, sennò non ha il guadagno e ha gli aumenti di prezzo. E qui abbiamo raggiunto un po' quello che è appunto il vero motivo, o comunque quello di cui non nessuno ha effettivamente parlato o approfondito il discorso, perché si sono limitati tutti all'inflazione semplice e pura, che è parte del problema, come detto. Non è mai solo una sola cosa il problema. Come con le schede video, non è solo online. Precisamente. Il punto è adesso, arrivati a questo punto, è dato per assudato, dato per assunto, che sì, ci saranno questi aumenti, perché il prezzo consigliato di fatto è aumentato. È un problema, no? È un problema? No. No. Perché 50 euro, a livello di costo di ingresso, non ti spostano, perché l'aumento, ed è venuto su un casino, l'aumento a 80 euro di un videogioco, è stato molto più penalizzante, a livello di ingresso, però sono state vendute 20 e passa milioni di PS5, nonostante questo, e vi dico uno spoiler, nonostante molti di voi questa cosa non la capiscono, PS5 non costa 400 euro e non costa 500 euro. No. Anche noi abbiamo comprato schede video, anche nel periodo peggiore, a MSRP. Le schede video si trovavano a MSRP? Quanti di voi hanno pagato una scheda video all'MSRP? Quanti di voi hanno preso PS5 a MSRP e poi qua sotto? Io l'ho pagata a MSRP? Ci saranno persone che l'ha scritta, che lo scriveranno, e tra l'altro molti di voi l'avranno presa anche su Just Racket, perché è proprio una cosa che hanno fatto anche per le console. E ci sta. Ma non è la media, ragazzi. Non può essere considerata la media, perché se poi andate a vedere i metodi di distribuzione e vendita classici, e anche dell'usato, e anche i bagarini, e anche gli scalper, tutto quello che volete, fate la media veramente di tutte le PS5 e console che ci sono state dall'uscita ad oggi sul mercato. Dai 7 ai 900 euro è il prezzo vero di PS5, con la digital che è qualcosa di inesistente. Lui ce l'ha, l'abbiamo presa, perché è una delle poche che ci sono in giro. È veramente una mosca bianca la digital, per cui il prezzo vero di PS5 è tra 7 e 900 euro. E io, in questo momento, noi abbiamo PS5 al day one, possiamo vendere un prodotto vecchio di due anni e venderlo a 200 euro in più del prezzo base. Quando dovrebbe valere 500, meno 22% d'iva, meno due anni di utilizzo. Quindi dovrebbe valere la metà, praticamente. Quindi, in questo momento, PS5 è venuta quasi al doppio del prezzo, anche a livello usato, che trovate su eBay, con i prezzi degli scalper, quello del prezzo di PS5. 50 euro non vi spostano nulla. L'aumento che c'è stato nel 2020, con l'uscita dei giochi, è molto peggiore rispetto a 50 euro. Perché è 50 euro di ingresso. Poi, alla fine, il problema delle console, e lo abbiamo sempre detto, non è che aumenta il prezzo di PS5 adesso, ah no, il problema è il prezzo di ingresso. No, il problema del console è sempre stato il mantenimento della console testa, con l'online, con i costi di giochi altissimi, con i servizi, ti fanno pagare ogni cosa. Perché semplicemente la console, pagate oggi 50 euro in più, ma il punto è che la console la usate per quanti anni? 7, 8. 7 anni? In 7 anni quanti giochi giocate e quanto giocate online? Ma poi 50 euro in 7 anni quanto ti sposti? Infatti. Anzi, PS4 durate 10 anni, pagavate 50 euro in più PS4, cosa vi cambiava? Sposterà magari per alcuni, perché ovviamente non impatterà lo 0%, questo incremento di prezzo. Una piccola percentuale di indecisi andrà su Microsoft, però rimarrà magari sempre lì, però non sposterà neanche dal punto di vista, perché la maggior parte dei clienti Sony è nell'episoni, perché fede la Sony da 25 anni, da quando è piccola, per cui non va di certo da Microsoft, anche perché Microsoft ormai offre un servizio più corposo, una console più potente, già da mo', e quindi uno che era indeciso magari ha fatto il passo. Magari questa è la botta definitiva che gli consente di fare il passo. Di fare lo switch, va bene. Non è la concorrenza di Microsoft che ti sposta a quei 50 euro di più. Il punto qui è semplicemente se uno aveva intenzione di comprare PlayStation, la stava aspettando, aspettava la disponibilità, adesso la aspetta comunque e la compra comunque in media. Non vi sposta, ragazzi. E quello che a me fa impazzire è che io non capisco come non possiate accorgervi del vero problema di questa console. e vengono fuori casini per 50 euro che non è il vero problema di PS5. Noi abbiamo fatto un video settimana scorsa che ha avuto la maggior parte dei commenti, non è vero, non ho sbagliato, ha avuto alcuni commenti con anche troppi like per quello che ha scritto. Diversi commenti, tra l'altro. Che c'era scritto PS5 costa 400 euro, il PC 3000, è ovvio che va meglio, è ovvio che si veda di più, è ovvio che non è vero. Questa è la console più cara di sempre. più cara di sempre, più grossa di sempre, con un parco titoli all'esordio così tanto, con le fregature God of War che esce due anni dopo, con una concorrenza di un Game Pass o di un PC che adesso finalmente è tornato migliore. Perché in questo momento un PC da 1000 euro te lo fai. Te lo fai anche di sotto. E te lo fai anche più potente. E l'abbiamo fatto settimana scorsa con la build. Quella da 700 euro e già non è troppo lontano da PS5. Con 1000 euro o qualcosa in più te lo fai. Ma col prezzo di PS5 adesso, con l'aumento di servizi e col costo online, PS5 costa di più del PC da gaming adesso. L'anno scorso non era così. Se compravano la PS5 a 500 euro, ovviamente da Amazon perché alcune ce n'erano, adesso PS5 è mesi che non si trova più. Mesi. perché appunto probabilmente Sony ha aspettato il più possibile per non fare questo passo che per lei è una sconfitta su tutta la linea perché probabilmente gli sarà dilaniato il cuore a fare questo aumento di prezzo perché voleva aspettare se la situazione rientrava verosimilmente e riuscire a gestire questi aumenti e questi cali e questi cali di entrate a riprodurre più console esatto perché al contrario ragazzi quest'anno la situazione automotive è migliorata PC non dico risolta però decisamente migliorata a parte le schede video che alcuni sono sopra un SRP il resto ormai si trova a prezzi super concorrenziali per via della domanda comunque si riesce a fare un PC abbastanza bene il resto comunque il mercato del mondiale elettronica anzi ormai in surplus di offerta rispetto alla domanda che c'è ormai si e poi arriva PS5 che nel 2022 non ne trovi una peggio che nel 2021 quando c'era il vero problema allora ragazzi di cosa stiamo parlando non è che forse forse il problema è qualcos'altro no e oltretutto ripeto tornando al video che avevamo detto al confronto non è il problema che questa console costa è la più costosa di sempre e la meno pronta per il futuro di sempre questo non è un problema il fatto che da qua a 10 anni come PS4 adesso che sono 9 anni che c'è che può farti andare un gioco in raster comunque in maniera decente secondo voi con questo retracing fra 10 anni quando quel tipo di asset e quei tipi di illuminazione avranno preso il dominio del mercato del gaming secondo voi questa console può reggerlo perché il vero problema è quando adesso che vi siete abituati a giocare a 60 poi tornate a giocare a 30 fra qualche anno ma infatti o con un calo di asset importantissimo che ci sarà per mantenere i 60 fps poi vi voglio vedere ragazzi se sono i 50 euro il problema di PS5 e non il fatto che appena applichi un minimo di ombre un minimo di qualcosa perché non stiamo parlando di un retracing alla cyberpunk su 4 elementi stiamo parlando di 2 riflessi 4 cose e devastare prestazioni però lì è sempre il solito discorso perché al di là del fatto dei commenti nello scorso video che ricalcano sempre quello che noi facciamo come discorso nel paragonare console a pc sia nel prezzo sia nel quello che può offrire eccetera eccetera ormai da quando abbiamo aperto il canale lo facciamo sto discorso e ancora c'è gente che non riesce a capire e continua a fare confronti sbagliati c'è anche questo problema cioè si ci si concentra sul problema sbagliato applicato a questa generazione perché da qui in avanti il mercato dei videogiochi cambia e lo state vedendo che cambierà quindi non parlate non paragonate ps5 al pc elevandola a un livello che non sarà mai il suo perché di fatto la situazione che abbiamo vissuto nella parte finale di vita delle console della scorsa generazione tornerà anche con queste perché si tornerà si tornerà peggio a livello di fps perché ovviamente non è che gli sviluppatori non continueranno ad innovare i loro videogiochi gli asset e i miglioramenti grafici continueranno ad esserci l'introduzione del ray tracing di lumen e tutto quello che ne conseguirà ci saranno il punto è che la console non si può aggiornare giustamente perché è il suo limite non c'è niente di male in questo l'abbiamo sempre detto e anche qua c'è un enorme problema perché la concorrente diretta microsoft aggiungono ogni tre anni perché tanto ha soldi infiniti a lei non gliene frega niente di nulla l'importante è fare arrivare a 100 milioni con game pass una volta che ci arriva vediamo ma finché deve arrivare a 100 milioni si investe e basta e dall'altra parte i numeri del pc gaming sono lì centinaia e centinaia di milioni di utenti attivi al mese sono lì non pensate che le console fanno da base per sempre nello sviluppo dei giochi e già questo lo state vedendo che succede e sta per succedere già la piattaforma di sviluppo tra pc e series x è unificata fa da riferimento allo sviluppo chi ha più copie vendute nella generazione 360 ps3 era xbox 360 il riferimento perché? perché aveva venduto di più all'inizio fa chi ha più basi installate e utenti attivi se tu hai 200 milioni di utenti attivi solo su steam 150 e quanti cavolo è solo su steam il riferimento diventa qualcun altro se Nvidia passa a fare 5-10 miliardi 1 miliardo nel 2009 a farne 25 quest'anno esatto sperando di non ritrovarci tra x anni con una situazione cyberpunk applicata a tutti i tripla che escono però quello che vogliamo far riflettere adesso a parte battute esagerazioni è il fatto che si sta focalizzando su questa cosa qua dei 50 euro di ingresso che non spostano quando i problemi PC5 sono ben altri e sono gravi e li sottolineiamo da due anni questa parte e voi ancora non ve ne frega niente perché dite PS4 costa 500 euro 400 euro quando pure GameStop è stata multata perché vendeva i band alla 700 euro non l'ha mai neanche applicato un 5 su GameStop non è mai uscita a 500 euro probabilmente quella console lì e stiamo parlando del store pubblico di riferimento nel nostro territorio comunque sul territorio italiano è molto grossa però in Italia ha una maria di store da nostre partite sono 80.000 quindi secondo noi dovreste ridiriggere le vostre nervosizioni preoccupazioni verso altri perché una console o un pezzo hardware da gaming è sbagliato paragonarlo dal momento in cui ce l'avete indietro va preso dal momento in cui ce l'avete in avanti perché saranno i giochi che giocherete sono quelli dopo qualche gioco prima sicuramente ma la maggior parte sono dopo è ovvio che questa è una cosa effettivamente epocale cioè questo avvenimento è ovvio che avrebbe scatenato shitstorm è ovvio che avrebbe fatto rumore è ovvio che avrebbe fatto parlare tanti però dategli l'importanza giusta cioè valutate bene quello che sta succedendo Sony è in difficoltà effettivamente data da tutta una serie di motivi che abbiamo cercato di spiegarvi anche nella parte iniziale del video ma non focalizzatevi su quei 50 euro in più che poi 50 non saranno ma saranno probabilmente magari anche di più a seconda di chi ve la rivende la console focalizzatevi sui problemi veri della console se voi la pagate già 200 euro in più la listina minimo cioè io non ditemi voi dove trovare in questo momento al momento in cui sto registrando un video 500 euro una PS5 ditemelo dove ditemelo ma soprattutto diteci qua sotto nei commenti tutto quello che volete perché ovviamente noi abbiamo fatto tutto un discorso lunghissimo adesso prendendo in analisi più punti ma voi fateci la vostra analisi qua sotto parliamone discutiamone perché questa cosa è molto importante ci teniamo veramente come è successo domenica scorsa non a dirvi guardate il retracing è più bello lì ve lo diciamo proprio perché guardate ragazzi va bene con PS5 in rust era un'ottima macchina ma il futuro non sarà tra 4 anni come sarà cosa succederà che fanno vedere che stanno cambiando le cose tantissimo però il problema su 50 euro non sono i giochi 80 euro il problema l'ho capito quando su pc ormai te li compri a 40 quello non è un problema è la scheda video 500 quello è un problema però un gioco 80 euro non è un problema vediamo cosa ci dicono qua sotto alla prossima ragazzi